Siamo da questi bellissimi stivali in jeans per costruire il look di questa sera Tranquille che non uscirò così E già vi reggo Ah sei una mamma Invece ho questo abitino di Missoni che avevo nell'armadio da tipo sette anni Perché aspettavo che smittesse di piovere E oggi devo dire mi sembrava la giornata giusta Ma non è detto l'ultima parola, non si sa mai Entro dopo domani riuscirò a finire questo video C'è qualcuno che può aiutarmi? More! Mi manca il pezzettino Ho capito Grazie Tu cosa ti metti? Metti i jeans e una camicia Metti camicia e jeans così siamo abbinati No facciamo caldo Bello perché questi si possono portare sia alti sopra il ginocchio Che abbassati un po' arricciati In realtà è un indeciso perché ci stanno molto bene anche queste scarpe Invece io oggi volevo la stivalata La borsa sono indecisa tra due Questa gialla è la borsa gialla che sta bene su tutto messa tre volte Sicuro la rimetterò ma oggi non sarà quel giorno Questa di Dior secondo me è molto molto meglio perché è più sobria portata così Bella Sapete che sono amante dei cappelli e secondo me questo è troppo bello Dai lo rende un po' più piace Bello Se dovesse far freddo durante la serata Non so se vi ricordate questo brand Gas Così la giacca di jeans ci può stare bene Anche se sui pelle dice che fa caldo oggi Però vabbè Look finito Che ne dite? Bello Mi piace Rilancio il suo mascara più iconico Hypnose Drama Hypnose Drama ha un nuovo packaging con silhouette ricurva Lo scovolino ad esse Ed è il mascara dal volume estremo istantaneo Pensate fino a 17 volte più volume Contiene una nuova formula più performante Dall'intensità ultra nera